E signori, safety car, safety car è appena rientrato sia Perez che Verstappen adesso rientra Hamilton, cosa clamorosa, clamoroso colpo di scena, clamoroso colpo di scena, clamoroso colpo di scena, clamoroso colpo di scena, colpo di scena incredibile, safety car, Latifi a muro, Latifi è a muro, Ed Hamilton ha sbagliato i calcoli, e Verstappen è andato, ma qua mi sembra, anche forse da rossa, no, da rossa no, assolutamente no, però mancano pochissimi giri, io forse la rossa, sapete che l'ha validata, vediamo qua la collisione di Nicolas Latifi che cerca il sorpasso su Mick Schumacher, Mi sa che la, ah no, si sono toccati Schumacher e Nicolas Latifi, devo ovviamente parlare abbastanza pieno perché, sapete, sono le 3 di pomeriggio, e da me ho il palazzo di vecchi, qua, eh, forse c'è, ci sarebbe anche penalità per Schumacher perché ha fatto brutte cose, E qua intanto c'è proprio, eh, Latifi che la sbinna, peccato per Raikkonen, per Raikkonen che oggi non, non ha concluso la sua ultima gara in carriera, ci fare un video senza alcun dubbio, sia per lui che, buon Giovinazzi, Giovinazzi, veramente, l'ultimo pilota che c'era rimasto italiano, e se n'è andato pure lui. Hamilton, eccolo qua, che continua ad andare con la sua, e c'è Verstappen che ha gomma rossa, un suicidio Mercedes, mi sembra che non faccia il pit Hamilton, c'è la safety car, non, non so, Mi sa che gli hanno detto, rimani fuori, perché mancano 3, eh, devo capire come parlano questi qua del, della Mercedes, 3 soste, una nella virtual proprio per Giovinazzi, eh, perché, eh, è andata molto, è andata male per lui, perché si è spenta praticamente la sua alfa, Ha subito dei danni, non so da cosa, non ho capito, mi è sembrato di aver capito il cambio, ci sono con Gommasoft, Verstappen, Perez e Zunoda, Zunoda, in questo ultimo periodo si è ripreso pit, anche per Pierre Gasly, che sta facendo veramente una rimonta, rimonta assurda, Infatti Gasly, eh, viene messo dietro al suo compagno, ma, qua, i meccanici, come si chiamano, quelli che tolgono le macchine, non so, come si chiamano quelli che le levano, che tolgono i detriti, devono muoversi, perché c'è un mondiale che si decide fino all'ultima curva, ma comunque andrà. Io ti favo onestamente Max Verstappen, soprattutto in questo finale, perché un tifoso ferrarista, io odio Verstappen, è un, è un pilota veramente che non mi piace, intanto ecco qua, eh, la gru sta togliendo, eh, la Tifi, intanto c'è l'1-0, il Verona contro l'Atalanta, ma vabbè, non sto guardando partite in questo momento, eh, ehm, tolgono la vettura qua, di Nicholas Latifi, vediamo un po' ancora la sminnata, prima colpisce dietro, e poi si blocca davanti, si sono ritirati i ragazzi, Russell, Nikita Mazepin, che non è partito, è risultato positivo, e non è una bella cosa, dire il vero, perché se è risultato positivo, proprio dopo aver fatto la qualifica, mi viene qualche dubbio, Ah, c'era stato un mezzo principio di incendio, eh, si era mezzo incendiata la gomma, se ho visto male di Nicholas Latifi, vabbè, niente, niente di che, si sono ritirati anche Russell, eh, Russell, Raikkonen, Giovinazzi e la Tifi, quindi né Alfa e né Williams sono rimaste, e adesso qua, ci sono i meccanici Red Bull, non lo so, rientra Red Bull. Stop per Perez, ritiro per Perez, incredibili senza podio, senza podio, Perez ritirato, no, non ho capito, Non capisco perché si sia ritirato, ma adesso penso che si farà l'ultimo giro e basta senza safety, e in caso potrebbe addirittura finire questo mondiale dietro safety, mondiale pazzesco, una volta su un miliardo ci ha regalato veramente, Ovviamente, oltre al mondiale del 2016, 2015 e 2014, forse anche, no, solo in questi ci ha regalato emozioni, compreso quest'anno, la toccata iniziale, secondo me ragazzi, non lo so, è un po' a scelta, è un po' una lotteria, Perché non sai se penalizzare Hamilton, che però non ha avuto spazio da Verstappen, o se non fare niente, alla fine hanno scelto di non fare niente, io mi aspettavo una penalità, non so, un po' di dubbi, E comunque sei da podio, ultima gara ragazzi, vi ricordo, per Bottas in Mercedes, per Latifi, scusate, per Giovinazzi e Raikkonen in Alfa Tauri, che lasciano anche la F1, speriamo momentaneamente, E per Russell in Williams, rientrerà l'anno prossimo al Bon, proprio nella Williams, e ci sarà nel 2000, l'anno prossimo, entrerà in Formula 1, Gio, Gio, ex pilota ormai della Formula 2, E con Kelly Piquet, che vi ricordo è ragazza del buon Max Verstappen, che diciamo si tratta bene, figlia ovviamente di Nelson Piquet, assistere, ecco qua, Perez che si ritira, Attualmente era dietro, era anche davanti a Norris Alonso, secondo me penso che finirà addirittura davanti a Mick Schumacher, no forse no, ed è penso sì all'ultimo giro dietro safety, suppongo di sì, Intanto Leclerc che va decimo e quindi a punti, strategia per Leclerc almeno sbagliatissima, Stroll invece brutta gara, tredicesimo anche per Ricciardo, e questo vuol dire ragazzi che la Ferrari è a podio. Vediamo qua, ma mi sembra che non vogliamo togliere la safety, devo toglierla subito, non mi interessa. Christian Horner scuote la testa e stanno chiedendo un giro di gala a Red Bull, voglio un giro e direi, a dire il vero perché non capisco, incredibile, E mi sa che finirà così, con Hamilton campione del mondo. Stiamo qua a tendere, intanto qua più overtaker dovrebbe vincere il trofeo Sebastian Vettel 132, dietro di lui Alonso 128 e 127 c'è Kimi Raikkonen, che comunque va dall'età, c'ha 42 anni, niente. Un giro, un giro fuori alla safety. La safety si lascia sorpassare. Verstappen vicinissimo, vicinissimo è finita la safety. Ragazzi, io non ci credo, non potevo scegliere stagione migliore per iniziale, Hamilton e Verstappen ai pagliati. Hamilton sta per superare Verstappen, e sono appagliati. Verstappen deve stare attento a non superare Hamilton. sta rallentando tanto, sta rallentando tantissimo, ha deciso di ripartire, mi sa, adesso. Hamilton, green flag, deve dare tutto adesso. Verstappen deve dare tutto, c'è anche la gomma differente. Bandiera verde, si riparte adesso. Ultimo giro, deve stare appagliato per il DRS Verstappen. Verstappen deve stare attento, deve stare attentissimo. Quattro decimi di distacco, e forse la strategia pagherà da parte della Mercedes. Vicinissimo, vicino a Hamilton. Verstappen dentro. Verstappen passa. E primo Verstappen. Hamilton è campione del mondo, scusate, Verstappen è campione del mondo, ma c'è tutta la scia. La prende Hamilton, la prende tutta. E qua dove c'è stata la collisione al giro iniziale, Verstappen è campione del mondo in questo momento. Incazzato tutto Wolf. Prende tutta la scia. Il DRS, Max Verstappen contro Lewis Hamilton. Ruota, ruota. Ed è Verstappen davanti. Abu Dhabi. Incredibilmente. Verstappen cerca di prendere un gap sotto la curva dell'hotel. Mi stremano le gambe. Max Verstappen. Credibilmente. Max Verstappen. Rettilineo finale. Max Verstappen vince. Il gran premio di Abu Dhabi. Max Verstappen. È campione del mondo. È campione del mondo Verstappen. Non ce lo dimenticheremo mai. Non ce lo dimenticheremo mai. Io non posso urlare. Perché ho i genitori che dormono. Verstappen è campione del mondo. Ed è giusto così. Verstappen è campione del mondo. Non ci credo.